Amici miei sono da tutti voi la possibilità di ottenere nuova sbattaglia della season 5 totalmente gratis Perciò mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e non ti scordare mai di troppare un bel like furbetto sotto questo video Ma come alzano gli andiamo a prendere uno di voi che si sta guardando questo video e gli andiamo a fare un regalo Today's the day for Alessandro F78, let's go Personalizziamo la carta regalo, questa volta mettiamo questa qui, gold Invio regali in corso Tutti i regali sono stati consegnati, gg e buon divertimento con la mega skin di ninja In più sono anche un epic partner, perciò se vi piacciono i miei video all'interno dei negozi oggetti il supporto ancora del più bello, più fresco, più croccante del centro Italia Only one code, R4SCO Io andiamo a prendere il ragazzo che trova la parola segreta all'interno del video di ieri Chi era termoconvettore, avete scritto top italiano, Deo, ma era solo e solamente termoconvettore Ecco qui, Fede, trattino basso, M99 Lo andiamo ad aggiungere, vediamo se ci trova qualcuno Yes, aggiungi amico E caro Fede ti sei beccato il pass della nuova season 5 completamente gratis Perciò mi raccomando guardate anche tu questo video dall'inizio fino alla fine E trova la parola segreta o meglio le lettere segrete che vanno a formare la parola segreta nascosta all'interno di questo video E amici miei, lo zio Donaldino Mostardino, sembra si stia divertendo Oh, 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 aspettate perché mi sa tanto che c'è Sì, c'è un playerino Ma? Cosa dia... Ah, bottazzo, bottazzo, sì, official Ehi là, amico mio Cosa diavolo sta piccolando questo signore? Eh, arrivederci, grazie mille per aver praticato prima che mi apri questa cesta fortunella Ok, pump, onesto, onesto, onesto Vi stavo raccontando della strana storia del signor Donaldino Mostardino In quanto si sta scatenando questi giorni Considerati ieri ha messo questa foto qui Foto è incredibile Perché come vi ho detto già all'interno del video di ieri Ci va a spoilerare il ritorno di Pinnacoli Pendenti Su questa pietra gialla c'è scritto RIP Tilted Poi però su un'altra pietra c'è un messaggio segreto in codice Che sembra essere Rebuilding Quindi Pinnacoli Pendenti sarà rebuildata magari all'interno di una nuova mappa Oppure magari dopo l'evento torneremo all'interno di una vecchia mappa di Fortnite Io spero ovviamente la mappa della season 1 Perché sarebbe davvero incredibile tornare ora a giocare all'interno della vecchia mappa Con questa grafica, con queste armi, con una risoluzione pazzesca Ma lo zio Donald non si è fermato qui Perché è andato a cambiare la sua posizione di nuovo Gli ha messo il punto zero Questo che cosa vuol dire? È ovvio che Galactus sta arrivando all'interno della mappa di Fortnite Qui ci sono anche dei bei scagnozzini che chigliamo dopo Ma non ci sono player qui a Pinnacoli Pendenti? Vabbè al lago languido ma per noi Pinnacoli Pendenti? Comunque vi sto dicendo È ovvio che il signor Galactus sta arrivando all'interno della mappa di Fortnite Per farsi un leggerissimo spuntino Per mangiarsela e assorbire il potere Visto che c'è appunto ancora il punto zero Oh mio Dio lo scarretto Ma che benessere Ma che benessere nella terza cesta che apriamo lo scarretto Così no dobbiamo andare a fare qualche kill prima con questo signor Scarlino Sempre se ci riusciamo perché ho sentito qualche colpo del pompaio lento Sì official e bye 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 colciolino Non l'abbiamo fatto con lo Scarlino Però amici miei insomma Cecchinata così È sciapo è sciapo Attenzione a questo furbacchione che sta saltellando E ok vai giù vai giù vai giù E 105 sulla chiappetta Lo andiamo a prendere Lo andiamo a prendere Anzi prima gli lanciamo qualche granatina così d'avvertimento Speriamo che non moriamo Speriamo che non moriamo Occhio perché credo che sia di qua Dove diavolo è andato questo furbacchino? Regà io non lo trovo Se è tipo buncherato da qualche parte Ci sono dei scildini gustosi Buoni Mi prendo questi scildini E mi prendo anche quest'altri Vi sto dicendo che appunto il signor Galan Sta arrivando all'interno della mappa Per mangiarsi il punto zero fondamentalmente Perché è quello che gli darà l'energia di cui ha bisogno per sopravvire Ma questo punto zero Dove si trova all'interno della mappa? Beh ecco Delicards lo hanno indicato sotto a quella che prima era l'agenzia Ma adesso viene indicata come le rovine di Fortnite Sicuramente ci sarà un'animazione pazzesca Molto simile all'evento del match Vedremo l'estrazione del punto zero all'interno delle rovine Ok c'è ufficialmente qualcuno qua dentro Ho sentito Dove diavolo? Cosa diavolo? Sta No furbacchino Oh no Lo dobbiamo andare assolutamente Assolutamente a prendere Oh mio dio No non mi dite che moriamo di tempesta Non mi dite che moriamo di tempesta Questo qui il taxi è bloccato Anche con l'altro taxi è bloccato Ok siamo morti da tempesta Ma mentre cerchiamo di andare in safe Senza morire di tempesta Amici miei ho scoperto una cosa incredibile Vi ricordate questa immagine che vi ho mostrato all'interno del video di ieri Dove appunto c'è lo spoiler che tornerà a Siona Con la sua navicella Quindi ne vedremo delle belle Cioè ci sarà una sorta di reunion Di tutte le vecchie skin Delle vecchie season di Fortnite Poi abbiamo visto che all'interno dell'evento Potremmo riutilizzare il jetpack Infatti tutti i personaggi all'interno di questa immagine Hanno il jetpack Ed è un mega spoiler In più c'è il terreno che è tutto distrutto Quindi Gunn arriverà e distruggerà tutto e di più Ma amici miei vi vado a spoilerare qualcosa di incredibile Da spoilerare ben oltre le aspettative Infatti vi ricordate quando erano usciti i numeri dal buco nero C'erano ogni tanto questi numerini che uscivano E nessuno sapeva che numeri erano Avevamo fatto le peggio congetture Avevamo fatto i peggio in pc Ma nessuno fondamentalmente era riuscito a capire Cosa centrassero i numerini Con un probabile evento Con un probabile spoiler A parte che qui c'è un playerino Che dobbiamo killare assolutissimamente Perché mi sembra molto 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 cattivo A faccia di dai cucciolo No si sta scildando il vermiciattolo Ok Ah è tipo non è quello di prima regà Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio la faccia sua No no Arrivederci me ne vado Grazie mille di tutto Allo mega ragione di Oh 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 Facciamo così prendiamoci le bende Andiamo via andiamo via Scappiamo via scappiamo via Assolutamente No scildone fermi Scildini e scildone Ma che cos'è il cespuglio delle meraviglie Oh occhio 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 c'è venuto a prendere Mi sa che questo ci fa Mi sa tanto che questo Oh mio No vabbè Professionista Oh no 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 Ti prego ti prego ti prego Lesco l'abbiamo killato Non ci posso credere Non ci posso Guarda le armi Guarda la roba che ha questo tizio Vabbè Non è niente di che È il mega ragione di Iron Man Che mi prendo È il pompa gold Oh mio dio Abbiamo killato uno dei più forti Abbiamo killato uno dei più forti A lobby Ci dobbiamo fare anche assolutamente I scildini E dobbiamo No in realtà i scildini Non ci potremmo pure non fare Dobbiamo prendere questo Pampa assolutamente E dobbiamo prendere Il mega ragione di Iron Man Ok lesco 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 Non mi dite No è lontanissima La defensa Non mi dite che moriamo così Mi prego C'è una barca qui C'è una barca qui Di dimisi Di dimisi Sì barchetta 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 Lesco di barchetta Barra motoscafo Vai vabbè Nos 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 Ma vuoi andare Nos Ok C'è anche un lama Qui adesso Incredibile Sto succedendo All'interno di questo game No raga c'è un tizio Qua c'è un tizio Ok io ho tirato Un razzone in bocca Ti prego non ci sparare Abbiamo 90 di vita Ci sta distruggendo Il motoscafo Facciamo finta di niente Scappiamo 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 Ok siamo all'interno Della safe Siamo molto molto tranquilli E ora io direi Facciamo una cosa Ma andiamo Il motoscafo Quando ci facciamo Un bel medikit Pulito qua dentro E let's go In silenzio I amici miei Nel caosso generale No c'è un altro Playerino qua davanti Speriamo che non ci vedi Gli sparo Gli sparo Devo andare assolutamente Altrimenti Poi si creano Situazioni strane Ecco tipo Questo tizio qua Che io lo sapevo Io lo sapevo Che questo era Un tizio pericoloso Buttiamo giù tutto 96 bianco Però cucciolo No no Io ti prendo Io ti prendo Amico mio Attenzione perché Abbiamo un playerino Anche dietro di noi E ho paura che mi pusciano Però dobbiamo killare Questo l'abbiamo killato Occhio 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 Tanta volta arrivano da dietro Ma penso Guarda i pamporo Non ci posso credere Incredibile Mi prendo anche questa mitraglietta Oh mio dio Le sgole sgole sgomici mie Si sta caricando Il mega ragione di Iron Man E vi stavo tentando Di dire un'altra volta Che in pratica Ho scoperto Che hanno inserito Il numero 87 All'interno del poster Che hanno creato Versiona E tra tutti quei numeretti Che erano usciti C'era proprio Il numero 87 Quindi vedremo Nei prossimi giorni Se usciranno Altri numeri Chi è che mi spara Basta Ma da dove mi spara Questo tizio Scusami Ma Ma questo è un bottazzo Ma sei un bottazzo Amico mio Le sgo Va bene La kill del bottazzo Ci serviva oggi Va bene Va bene Va bene Mi piace anche così Però volevo vedere Se quel bottazzo Aveva un minimo di scildone Mi serve uno scildone Perché ok Abbiamo 150 di vita E con 3 scildini Ma se qualcuno Mi ara Mi distrugge Ok Comunque abbiamo preso La top 5 E amici miei C'è un peciolino Che sta nuotando Forse ci siamo Forse con questo evento Riusciamo a capire qualcosa Della storia di fortnite Perché è davvero complessa Ci sono tantissime cose in ballo Ci sono tantissimi eventi E c'è anche un playerino Qua davanti Che non gli sparo E che si gli sparo Per forza E che tipo Non gli entra nemmeno un hit Nemmeno a pagarlo Maledetto Solamente un 26 Ah gli stanno sparando Da dietro Ecco perché non si sta proteggendo Ok Facciamo un bel panino Mega galattico Vediamo se riusciamo No Lui ovviamente spara a me Gli sparano da dietro E lui ovviamente spara a me Scontatissima Questa cosa Lo facciamo cadere Però let's go Attivo il cecco Aia Aia No Mi è fatto malissimo Mi è fatto malissimo Maledetto Maledetto Ah Vai giù amico mio Vai giù Ok Perché stanno nuotando Io mi devo fare assolutamente Cildini 3 player a life E amici miei Ve lo dico qui Vi lancio questa mega bomba Galattus Sarà una skin Come è successo anche per Il signor Travis Scott E quando abbiamo visto L'evento di Travis Scott Prima in realtà 1-2 giorni prima Era diventato Una skin C'è una buonissima probabilità Che anche il signor Gun Subirà la stessa fine In quanto De Ligards Hanno proprio trovato Nei file di gioco La skin di Galattus E quindi probabilmente La vedremo proprio Come skin ufficiale Anche perché Mi hanno buttato giù tutto Mi sa Geni Ok GG ci sta Ah questo mi ha proprio Pusciato Ah Oh mio dio Let's go Let's go Oh mio dio Fermi 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 Probabilmente moriamo Ok siamo fermi Stiamo fermi Ci dobbiamo curare Dovremmo anche scendere Perché se questo ci butta giù tutto Ha vinto lui regà Siamo calmi Stiamo tranquilli Non possiamo morire ora Non possiamo morire ora Ok perfetto 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 Abbiamo una marea di colpi Abbiamo una marea di tutto Ma da dove Oh mio dio regà Mi ha fatto Mi ha fatto Mi ha fatto prendere un colpo Ma da dove diavolo ci ha sparato C'è Questo tizio Dove diavolo è È tipo Ma è tipo Ma è tipo Ma è tipo Ma no Ma è lui Sì Pensavo fosse un palo della luce Ma questo è matto Io comunque scenderei Regà prima che ci fa cadere tutto Anzi Mi vado a fare anche questo bel medikit Tanto mettiamo i shieldini là dentro Tanto lui prima che ci viene a prendere No 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 Shieldino medikit Shieldino medikit Oddio se ci pusha ci killa Non ci posso credere così Eh ok 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 medikit E io ovviamente mi andrò a shoppare per forza la skin di galactus E i genietti di fortnite lo fanno apposta Perché ovviamente prima dell'evento che fai Non te la shoppi se puoi una bella skin di galan Regà Occhio Perché ora però basta scherzi Ci dobbiamo portare assolutamente a casa questo incredibile game Così nato dal nulla Io non so dove è andato quel pallo della luce che stava fermo ingoblinito per due ore Ok 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 sta spazio Ma 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 non ci credo Metti nuovo lì il pallo della luce Ma è fermo lì Ma è un bot Regà Ma i bot non si comportano così Cioè Lui è fermo In mo Alla faccia del bot Fermi che questo non è male Fermi che questo c'è il cecchino E una cecchinata ci butta giù tutto Cioè no ci butta giù tutto 150 ci ammazza Ok però sta tipo notando 36 Ma cosa diavolo è successo Amici miei ci siamo portati a casa un game pazzesco E si livella pure 254 Let's go Amici miei non vi vorrei dire ma eravamo vicinissimi alle 10 bombs Abbiamo fatto 8 kill Va bene che insomma non erano i player più forti della classia Però per un nabbone come me 8 kill sono pulite delicate e raffinate Quindi preparate i vostri Reeboks perché molto probabilmente vedremo in game la skin di Galactus Cioè la vedremo all'interno del negozio oggetti E ovviamente se vi siete messi un po' da parte Reeboks Oppure non potete shoppare però vi guardate sempre i miei video Sapete bene che io faccio sempre dei regali molto succosi a tutti i miei fan Quindi mi raccomando iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto Attivando la campagna delle notifiche Droppa subito un bel like furbetto sotto questo video E all'interno del negozio oggetti il supporto ancora più bello più fresco più croccante del centro Italia Only one code R4 score Ora come al solio vi lascio due video sopra il vostro schermo Quindi cliccate di qua oppure di qua Andate a vedere il video che più vi piace più vi interessa Noi ci vediamo prestissimo con tante altre news Teniamoci pronti perché manca davvero pochissimo a questo mega event di Galan Non vedo l'ora di vederlo insieme a voi live ovviamente Manca poco manca poco lo so lo so lo so E l'estra